al punto più elevato della civiltà umana ovvero l'era della tecnica dell'homo faber qualcosa si è spento la gente si trova in una melma mentale non è in grado di discernere e per questo si comporta come una massa inerte oltre cent'anni fa il filosofo tedesco oswald spengler nel suo tramonto dell'occidente definiva ciò che stiamo vivendo ora come il periodo discendente della civiltà una civiltà che invecchia la cui anima era trappita e al principio della qualità si sostituisce quello della quantità all'artigianato la tecnica le società sono livellate l'edonismo il denaro sono i soli valori riconosciuti dove l'uomo in tutto questo come possiamo risalire la china di questa discesa di inferi come abbiamo iniziato e come si inizia la vita umana ovvero con una domanda così dobbiamo approcciarci a tutto questo come risalire questi inferi è già l'inizio di una risalita perché anzitutto occorre riconoscere che ci troviamo nel tracollo di una civiltà che proprio perché al suo apice produce dialetticamente ciò che la uccide nel momento in cui l'uomo ha concepito in quanto uomo l'ha concepito in quanto ingegno strumenti che prolungavano la sua mano il suo agire ben oltre la normale forza della sua mano e del suo agire nel momento in cui è riuscito a concepire e realizzare questo e si è trovato di fronte a sé i cosiddetti strumenti egli deve riconoscere che uno strumento è tale finché lo usa nel momento in cui è lo strumento a usare l'uomo cioè nel momento in cui un uomo non è più un uomo senza un lascia passare senza uno strumento e tra i motivi per cui disobbedisco e disobbediamo e resistiamo è che quando entriamo in quelle librerie in quelle biblioteche nei luoghi proibiti ai paria della civiltà nel momento in cui disobbediamo noi diciamo un uomo senza lascia passare un uomo dicevo nel momento in cui a un uomo viene negata l'umanità perché lo strumento gli nega l'accesso alla relazione con gli altri esseri umani ecco che l'uomo è diventato schiavo di ciò che era per lui questo è il momento di crollo di una civiltà grazie grazie